Tutto ciò mi va bene, ma ora io dovrei credere nelle 5 leggi biologiche della natura o piuttosto nella medicina ortodossa con i suoi miliardi in fondi per la ricerca, le sue migliaia di medici, di professori, di libri di testo e studi? In quest'ultima parte esaminiamo diverse possibilità per verificare le 5 LB. Completando la serie approfondiamo questo tema per mostrare come potrebbe continuare a progredire. In precedenza un paziente che si affidava alla medicina convenzionale non aveva alcuna possibilità di verificare le proprie condizioni in base alla teoria medica proposta, poiché ogni suo dubbio sembrava portare a ipotesi non comprovabili e casuali. Virus, batteri, geni, niente che potessimo testare da soli senza ricerche formali e studi su larga scala. Puoi ovviamente abbracciare qualcuno che soffre di una malattia infettiva, toccare il fungo sul piede dell'atleta con la mano o astenerti da lavarti i denti per anni o addirittura sfilare in inverno vestito solo con pantaloncini e maglietta. Ma nonostante non ci sia mali per questo difficilmente riusciresti a confutare le teorie correnti perché ce ne sono veramente tante. Tuttavia dopo che ti sei dedicato allo studio la nuova medicina offre molti modi per verificare le sue affermazioni evidenziando importanti vantaggi rispetto al modello medico convenzionale. Le allergie spesso richiedevano una vita per essere gestite o richiedevano lunghi processi di desensibilizzazione. Ora le allergie possono essere risolte se si trova l'evento specifico che le ha innescate e si trova il conflitto sottostante. Spesso siamo stati sorpresi da sintomi ricorrenti e irregolari e abbiamo reagito con ansia talvolta prendendo farmaci in risposta ad un processo che abbiamo percepito incontrollabile, ad un difetto o a nemici microscopici. Una volta identificato il conflitto biologico e sottostante questi sintomi possono ora essere previsti con precisione sino al giorno o addirittura all'ora. Per questo i sintomi ricorrenti possono essere spesso completamente eliminati. In precedenza si riteneva che fosse questione di buona o cattiva sorte ammalarsi o stare in salute. La specifica previsione di un sintomo era impossibile. Ora i sintomi della fase di soluzione e della crisi epiletoide possono essere previsti in se stessi o negli altri identificando un particolare comportamento o sintomi della fase attiva del conflitto. In precedenza i sintomi improvvisi particolarmente forti erano considerati una sventura, una questione di sfortuna che richiedeva l'aiuto di un medico che attraverso farmaci e altri interventi avrebbe ripristinato la tua salute. Ora con alcuni sintomi che si verificano nella fase di soluzione si può verificare che il conflitto specifico era precedentemente presente ed è stato risolto poco prima della comparsa di tali sintomi. Monitorando il semplice corso del programma speciale biologico e sensato è possibile prevedere la durata dei sintomi, talvolta anche senza la necessità di cure mediche o di aiuto da parte di altre persone. Naturalmente si possono sempre alleviare i sintomi con farmaci o altri rimedi fino al completamento dell'SBS. Tuttavia capisci che i farmaci non curano nulla, né combattono i nemici, ma semplicemente alleviano i sintomi di un processo di riparazione o recupero. In precedenza se un sintomo appariva a sinistra, a destra o su entrambi i lati del corpo era solo un caso. Ora puoi controllare la lateralità di ciascun sintomo e persino prevederlo, poiché il modello delle cinque leggi biologiche indica se un sintomo si verificherà sul lato sinistro o destro. Vedi riferimento 6 per le regole della lateralità. È meno immediato cercare di individuare il conflitto associato a lievi sintomi quotidiani, come un raffreddore o una tosse, poiché probabilmente troverai diversi eventi di shock conflittuali che corrispondono a quel sintomo. Il sintomo deve distinguersi fortemente da tutti gli altri per tipo e intensità. Più forte o più specifico è il sintomo, più significativa è la verifica. Possiamo esaminare esempi reali di tutte queste possibilità nelle successive parti applicative che, con la conoscenza delle 5 LB, mostrano possibili approcci per affrontare una varietà di sintomi e quindi forniti una buona base per il tuo viaggio di scoperta. Naturalmente ci sono cose, anche nella nuova medicina, che non tutti possono verificare, semplicemente perché non si ha un sintomo preciso o perché non si dispone di dati tecnici come un'attac cerebrale. Ma ci saranno sufficienti occasioni per acquisire sicurezza nel tempo su fatto che il modello sottostante sia ampiamente corretto, anche se alcuni dettagli non sono direttamente verificabili, possono comunque essere errati o non ancora scoperti. Naturalmente è utile interagire con gli altri per costruire nel tempo una storia di esperienze condivise. In circa un'ora hai ricevuto una prima approssimativa panoramica della nuova medicina e delle 5 leggi biologiche. Naturalmente ti saranno sorte molte domande che sono ancora senza risposta e per essere in grado di condurre una buona verifica personale è necessaria una maggiore profondità. Quindi alcune cose sono state semplificate e altri argomenti dal punto di vista delle 5 leggi non ancora affrontati, come l'influenza del mancinismo sulla lateralità dei sintomi, le varie psicosi, i conflitti a cascata in relazione alla teoria della metastasi, le convinzioni sul contagio e le vaccinazioni, la quarta legge biologica della natura sul ruolo dei funghi, batteri e virus, i segnali nel momento del conflitto, lo schema cutaneo esterno ed interno dell'ectoderma, il comportamento dettagliato dei tipi di tessuto nel contesto della bifasicità, l'interazione di programmi speciali concorrenti, le regole gerarchiche nelle aree territoriali, i vari programmi speciali nel dettaglio, gli effetti dei farmaci nel processo SBS, le sei qualità dell'endoderma, le aree cerebrali e i focolai di Amer. Con una solida conoscenza delle basi, molti argomenti interessanti possono già essere esplorati, come la pelle, il dolore, il cuore, la fertilità e il desiderio insoddisfatto di avere un figlio, la gravidanza e il parto, l'obesità, la pressione sanguigna, la depressione, gli organi sensoriali, la digestione, il rene, le mestruazioni e molto molto altro ancora. Per tutti questi argomenti ti rimando ad altre fonti affinché tu possa approfondire le tue conoscenze di base appena acquisite. Un'ultima nota. A seconda della letteratura vengono spesso usati nomi diversi per le fasi e i punti salienti delle due fasi di SBS. Invece di conflitto biologico viene utilizzato anche DHS o shock conflittuale. Invece della fase di conflitto attivo viene utilizzata anche la forma abbreviata fase CA ma sono anche usate fase attiva o distress. Invece di fase di soluzione del conflitto si trova comunemente fase PCL dove PCLA identifica l'area prima della crisi epilettoide e PCLB l'area successiva. Vengono anche usati termini come fase di riparazione o ripristino oppure in modo abbastanza fuorviante fase di guarigione che è un'eredità del precedente concetto di malattia tuttavia è un termine non corretto. La crisi epilettoide viene anche definita epicrisi e abbreviata in CE. Adesso nulla ostacola la strada per ulteriori ricerche. Grazie per l'ascolto e per l'interesse per l'argomento. Grazie per l'ascolto e per l'ascolto e per l'ascolto. Grazie per l'ascolto e per l'ascolto.